Allora, iniziamo questa formazione su dei requisiti importanti per fare, come alcuni di voi ormai sanno fare in maniera perfetta, e utilizzare il software in maniera ottimale anche per quanto riguarda gli aggiornamenti. Allora, abbiamo delle novità, come sapete, che sono state portate avanti dal Cell World Bank. Allora, vi faccio vedere una cosa, che così, per qualsiasi problema, potete poi, andando su questo link, risolvere praticamente quasi tutto. Allora, guardate bene quello che sto per fare, perché qui è cruciale. Tutti voi accedete a questa pagina da ordini, giusto? Cioè se, ritorniamo indietro, se volete fare un ordine sapete che andate qua, giusto? Fate ordine, poi controlla il vostro stock, qui facendo ordine, controlla il vostro stock, qui avete tutti i vostri test che potete, avete qui tutti i vostri test che è il numero che avete, ordine a prodotti, allora, ordine a prodotti, quindi per controllare se avete i test, basta andare qua, fare controllo stock e vi dà il numero in fondo dei test che avete ancora nel vostro stock. Andando su ordine a prodotti, vi fa entrare in questa pagina, mettete l'email, la vostra password, alcuni ci vanno in automatico, entrate qui. La vedete questa dove entriamo? No, devo riuscire e rifarvela e ricondividerla. Aspettate un attimo, che è qui. Entrate in questa pagina, giusto? Per fare gli ordini. Allora, chiudete il microfono per piacere. Allora, andando su questa pagina, su help e support, vedete, se dovete cambiare il computer, prendere un computer aggiornato, Windows 10, Windows 11, eccetera, eccetera, e volete riscaricare il programma, basta andare su business.sell-wellbank.com, oppure da qui potete acquistare, già lo sapete, però poi lo vediamo anche questo. In questo help e support, oppure se avete in italiano c'è aiuto e supporto, qui c'è nuova installazione, S-Drive user guida, l'S-Drive come pulirlo, e poi c'è anche la possibilità di scaricare il nuovo aggiornamento dell'S-Drive, anche direttamente. Cioè, se voi cliccate su S-Drive Software and Manual Patch Download, fate direttamente il download sul vostro computer o del programma o dell'aggiornamento. Guardate, qui c'è scritto, lo vedete questo, potete aprire i microfoni, se non c'è confusione in casa. Questo, click here to download the server bank S-Drive software, e sotto c'è click here to download the S-Drive, il manual, l'ultimo aggiornamento. Per fare l'aggiornamento basta cliccare, lui scarica l'aggiornamento su download. Una volta che è scaricato il download, basta andarci sopra, cliccare due volte, un'eseguibile, e lui vi aggiorna il software. Basta cliccare due volte, vi si apre un'icona con scritto, vuoi consentire a questa app di apportare modifiche al dispositivo? Voi, come quando fate l'aggiornamento, cliccate sempre su sì. Vuoi consentire all'app di apportare modifiche? Sì. Lui esegue l'aggiornamento. Vuoi apportare a modifica la versione 6.3.0.9? Se voi date sì e il computer vi risponde che questa installazione non è connessa a Internet, vuol dire che comunque il vostro software è già aggiornato. Se no, vi fa l'aggiornamento. Come possiamo fare per vedere se è aggiornato? Ritorniamo al software S-Drive. Condividiamo l'S-Drive. Scusate, aspetta un attimo. Eccolo qua. Condivido. Vado sul software S-Drive. Vedete qui, in fondo c'è scritto, in fondo alla pagina c'è scritto versione 6.0.6.0.3.0.0.0.9. Se voi avete la versione 0.6.0.3.0.0.0.9, Questa è l'ultima versione. Quindi potete verificare già aprendo il vostro software S-Drive con il collegamento del vostro S-Drive, potete verificare se è già aggiornato. Questo è fondamentale per capire se potete poi avere dei problemi. Per evitare qualsiasi problema, cosa consiglio sempre? Andate, quando aprite il vostro software e lui vi dice vuoi fare un aggiornamento, dovete dire sempre sì. Tanto lui ci mette due minuti e vi aggiorna il software. Altra cosa fondamentale. In manutenzione avete un pulsante che potete cliccare, ricercare un aggiornamento internet, che potete cliccare e vi dirà stai già utilizzando la versione più vigente di questo software. Fate ok e il software è a posto. Se avete qualsiasi problema andate su controllo remoto, sempre da manutenzione, mi chiamate naturalmente prima perché mi avvisate, lui lancerà il Team VIEV che vi darà delle password e queste password poi fate una foto e me le mandate. Se non vi si attiva Team VIEV da lì, vi prego di scaricare Team VIEV sul vostro computer, è gratuito, in maniera che se avete qualsiasi problema lo potete lanciare, mi mandate le password e vi entriamo direttamente da remoto per mettere a posto eventuali problemi. Mi raccomando di avere un computer aggiornato. Oggi come oggi tutti i programmi vengono aggiornati in remoto, vengono comunque fatti secondo degli standard per funzionare o i code che cambiano continuamente, i codici internet, gli aggiornamenti, vengono fatti in Windows 10 o Windows 11. I programmi quelli, sì, puoi avere un computer vecchio in casa, ma i programmi non girano più. Tutti i programmi che vengono fatti devono girare su Windows 10 o Windows 11 perché altrimenti poi i successivi aggiornamenti che fate a Windows non sono più compatibili. Quindi mi raccomando, questo è importante fattore di avere un computer sempre aggiornato. Un altro aspetto fondamentale. Lo dico sempre perché ho visto alcuni che fanno il test epigenetico con l'S-Drive vicino al computer o magari in una zona dove c'è di tutto e di più sopra il tavolo. Vi ripeto che S-Drive va fatto con il dispositivo a distanza di filo dal computer, non vicino. E intorno a S-Drive non ci deve essere nulla. Mi raccomando, questo è un aspetto fondamentale. Allora, apriamo i microfoni perché se ci sono domande, qualcuno non ha capito e vuole magari farmi delle domande e dire mi ripeti come si fa, sono qua, fino a mezzanotte. Pronti? Per me è tutto chiaro, Giorgio. L'abbiamo fatto insieme, è stato perfetto. Giorgio, scusami, io invece volevo sapere una cosa. Mi senti? Sì, sì. Il codice che hai detto, quello che c'è scritto sotto alla schermata, perché io oggi ho chiesto se c'era un aggiornamento da fare, mi ha detto che l'ultima versione è disponibile, quindi teoricamente sarebbe aggiornato. Però hai detto che nella schermata dove ci sono la disponibilità dei report e tutte le cose, ci sta scritto sotto il codice relativo all'ultimo aggiornamento? 0 6 0 3 0 0 0 9. Io invece tengo tutta un'altra serie di altri numeri. No, quello ce l'hai a fianco, ce l'hai. 6 S drive, SN 4, quello è il tuo numero di serie. 0 6 0 3 0 0 0 0 9 hai detto? Perfetto, sì. Ok, 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 perfetto, grazie. Ce l'hai, ce l'hai. Bene. Ecco, quello è importante. Una volta che avete controllato che è l'ultimo aggiornamento, poi insomma chi è che da tanto ha S drive ormai sa come fare. Ah, volete sapere come estrarre tutti i test che avete fatto fino adesso? Ah, sì. Allora, una parte ce l'avete direttamente in, come sapete, dentro la cartella. Lì avete tutti i pdf nella cartella di archivio. Chi non l'ha, non ce l'ha, basta che va su manutenzione. Ci siamo? Aspettate che vi faccio vedere questo. Sapete che bisogna andare su manutenzione. Qui c'è, ve l'ho fatto a tutti, quando l'ho installato io vi ho fatto la cartella di manutenzione, quindi non vi preoccupate, sia guido ce l'hai. Vedete, questo è un backup automatico, seleziona la destinazione, voi poi cerca e create una cartella, è come Windows, quindi andate su desktop, crea una nuova cartella, ok, e gli date il percorso dove archiviare, ma ce l'avete tutti quello che ho installato io. Però per dirvi, dentro a quella cartellina che avete archivio s-drive, dove avete tutti i test, quella lì potete prenderla e metterla su una chiavetta, perché se succede qualcosa a computer, vi ripeto che perdete tutti i pdf, mi raccomando. Questo è importante, cioè ogni tanto fatevi il backup di queste cose. Invece, per scaricare tutti i vostri test... Giorgio, aspetta un attimo, che io quella cosa che hai detto adesso non l'ho mai fatta e la stavo facendo. Metti la USB, prendi un USB qualsiasi, la metti nell'USB e prendi quella cartella e la sposti nella chiavetta. No, ma prima la devo mettere qui nella cartella. Io non le avevo mai messe nelle cartelle. Ah, non ce l'hai? No. Cioè, ce l'hai tu, però io adesso ho cliccato e mi fa fare la destinazione del backup. Aspetta, allora. Ah, ecco, non avevi il flag? Sì, sì, ce l'avevo il flag. E dove li trovo adesso? Vai su... no, vai sul desktop. Sul desktop trovi una cartella con scritto archivio S-Drive. Desktop, archivio S-Drive. Non lo trovo, non la trovo. Ah, ecco, sì, sì, l'ho trovata. Ok, poi c'è database, pazienti e report. Sì, adesso quella cartellina lì te la metti in una chiavetta USB, te la copi in una chiavetta USB per evitare che se succede al computer quelli l'hai persi. Invece ogni tanto fatevelo questo backup. Perfetto, grazie. Grazie, ok. Altra cosa, allora, se andate su manutenzione, sempre dove sono io adesso, vedete qua su manutenzione che c'è esportazione dati, lo vedete? Vicino a ricerca e un aggiornamento c'è esportazione dati, lo vedete? Sì. Cliccate lì e lui si prega di selezionare il percorso, beh, adesso poi lo cerchi dove vuoi salvarla, se puoi far salvare sul texto dove vuoi, in una cartella che volete, fate ok, fate ok e lui vi esporta in Excel tutti i test che avete fatto, con nome, cognome, indirizzo, telefono, dei vostri pazienti. Certo, ce l'avete lì, però se volete un Excel per capire… Se me lo so. Sì, pronto? Sì, se volete, insomma, contattarli, richiamarli, fare delle telefonate ai vostri clienti, richiamarli, ci avete tutto dato base, mettete lì e giorno per giorno, allora come va, come stai, come ti trovi col test, quando è che rivieni a fare il controllo? Insomma, è una bella cosa, perché come dico sempre, chi fa veramente tantissimi test, che arriva anche a farne 100-150 al mese, fa una strategia che ogni tre giorni, dopo tre giorni che ha fatto il test, chiama paziente, allora hai preso i prodotti, come va, hai iniziato a fare la dieta, hai tolto questi cibi, dopo altri tre giorni lo richiama, dopo sette giorni lo richiama. Hanno una strategia di marketing a seguire questo paziente fino ai 90 giorni, questo paziente a 90 giorni ritorna a fare il test. Guardate, è vincente questa cosa, 100-150 test al mese fa, con questa tecnica. Penso che, insomma, sono numeri. Vediamo se c'è una domanda. 100-100 test al 100. Ok. 10-1. Poi, altra cosa importante, come vi ricordo, allora, manutenzione. 10-1. Chi è che parla? Chi è che chiacchiera? Manutenzione. Ricerca aggiornamenti internet. E lui vi dice, stai già utilizzando la versione più recente. Se non è così, lui vi dirà, vuoi aggiornare? Sì, aggiornate sempre. Quando il computer lo aprite, il software lo lanciate, vi chiede l'aggiornamento, fatelo sempre. sempre. Vi ripeto un'altra cosa importantissima. da impostazioni, vedete su impostazioni? Qui, voi potete modificare i dati che volete far vedere sul report. Lo sapevate? voi qui potete mettere il centro, potete fare quello che volete e modificare i dati. Una volta che l'avete modificato, andate qui, salva dettagli licenza e li cambiate. Potete cambiare il numero di telefono, se non volete farlo apparire, o volete mettere un altro telefono, volete mettere... qualsiasi cosa la potete cambiare. Sempre. Per fare gli ordini ve l'ho detto. Ordine, ordine a prodotti, vi manda sul link. Ecco, ritorniamo sul link un'altra volta, perché voglio che questa cosa venga, sia molto chiara. Allora, se andate sul link, per esempio, questo, una volta che avete fatto, andate a ordine a prodotti. Vedete qui, ordine, ricordatevi che, aspetta che chiudo il microfono a qualcuno, perché c'è qualcuno che ha il microfono. Ecco, allora, per, per, quando andate sugli ordini, ricordatevi che adesso da febbraio aumentano di 3 euro i report, quindi, se volete farvi un po' di scorta, risparmiate qualcosina. Questi, purtroppo, è cinque anni che non ci... Anzi, vi ho già detto che in altri paesi costa 37 euro il test. Io ho lottato con tutte le mie forze, ma adesso me l'aumentano. Non c'è niente da fare. però sono riuscito a non farlo andare come lo facevano in Malesia e in Asia, 37 euro. gli ho detto no, noi non ci arrivi, non lo vogliamo con il prezzo lì, però a 30 euro non c'è niente da fare. Allora, top up. se andate su top up, qui, adesso, come questo lo sapete, come si fanno gli ordini e comprare i pacchetti. Ricordate che se volete fare il test sui bambini, dovete prima di tutto andare sullo starter kit. alcuni di voi hanno già avuto il dischetto, devono prima ordinare questo kit per avere poi il dischetto eventualmente, se non ce l'ha, lo dite, ve lo mandiamo, loro vi autorizzano e vi aprono sotto la possibilità di acquistare quello che volete di numero dei test per i bambini. E' un test che per chi in questo momento lo sta facendo e l'ha fatto, sta dando dei risultati straordinari, quello del bambino. E' veramente una rivoluzione. Altra notizia che vi do, se avete degli amici medici veterinari, o qualcuno di voi si vuole cimentare, naturalmente non si può usare lo stesso S-Drive per gli animali, però il test per cani e gatti che stiamo lanciando sta suscitando un interesse incredibile. Vi racconto questa. Noi abbiamo il grande dottor Ejad, che è un medico cardiologo e veterinario di Bari, che ha una clinica veterinaria clinica con oltre 30 veterinari che lavorano dentro questa clinica, è un ospedale. Lui ha aperto un centro anche medico, naturalmente per i pazienti. Cosa succede? Che quando lui fa i test a cani e gatti, la padroncina, i padroni, vogliono, dice, ma questo lo posso fare anche per me. Allora, oltre che fare il test al cani e gatto, poi lo manda nel centro medico a fare il test per loro. Quindi pensate che lavoro che sta venendo fuori. E ha detto, è pazzesco quello che riesco a fare sugli animali per capire quello che hanno, i cibi di cui hanno bisogno, una cosa che non esiste al mondo e che mi sta cambiando l'approccio proprio in veterinaria. Quindi noi lo sappiamo, cosa abbiamo in mano. Ma voi pensate cosa stiamo facendo anche nel settore petto veterinario. Insomma, piano piano. Non è facile, ragazzi, non è stato facile sfondare il muro dell'indifferenza e di alcune, come si dice, di alcune persone non che remano contro, ma per loro ignoranza che non conoscono la materia, ci davano un pochettino, ci prendevano un po' per mano. Oggi abbiamo oltre due, ormai quasi no oltre, quasi 250 centri in Italia aperti. Avete visto il sito che è diventato qualcosa di straordinario? Sta diventando, guardate nel sito, chi ha il sito? Adesso voglio fargli vedere cosa stiamo facendo, perché questo è importante per voi. o S-Drive Italia. Questa è una cosa che vi serve tantissimo. nel vostro sito di riferimento S-Drive Italia. Guardate questa perché è veramente importante. qui nel vostro sito, S-Drive Italia, come sapete, qui ci sono i centri S-Drive, qua avete la mappa dei centri. I centri con il verde sono quelli che hanno scelto, alcuni sono in lavorazione, però sono quelli che hanno scelto di avere anche il sito a disposizione. È bellissimo. Ah, la cosa interessante è che voi dovete andare qui, area riservata. In area riservata vi registrate, alcuni di voi sono già registrati. Nell'area riservata avete una marea di informazioni e download che potete fare. Per esempio, io vado su login, adesso mi logo, guardate cosa potete avere. Spero che tutti vedano questa cosa, aspetta che la interrompo e ci rivado sopra. Ok. Allora, qui nel download ci sono i manuali da scaricare. basta registrarsi, le circolari che noi facciamo, l'autoverifica, i report, tutti i tipi di report da scaricare, avrete tutti i video da scaricare, il materiale pubblicitario. Questa è una novità assoluta. State pronti, sedetevi comodi perché potete scaricare, personalizzare e ordinare, naturalmente, questi non è che li diamo gratis, sono bigliettini da visita. Potete personalizzarli come volete. Potete personalizzare i volantini con il vostro nome, irolap. Potete fare tutto quello che volete. Stiamo organizzando una rete forte, importante, con un supporto marketing, comunicazione e scienza che non ha paragoni in Italia. E forse neanche al mondo, a questo livello. Avete tutta la possibilità di ecco qua, alcuni ritardatari stanno arrivando e comunque vi mando la registrazione poi così almeno avete chiaro di tutto quello che abbiamo parlato. Allora, ci sono delle domande che volete farvi? Vi piace questa cosa del sito, la possibilità di scaricare materiale, il materiale marketing a disposizione e vi piace questa cosa? Assolutamente sì. Sì, sì. Assolutamente sì. Bellissimo. Vi piace tutto? Pensate cosa stiamo pensando? Devo dirvi che ho dei ragazzi straordinari in marketing, web marketing che ci stanno seguendo, il sito è di una professionalità pazzesca, c'è pochissimo che sanno fare un lavoro così. Ma quello che mi piace è proprio darvi il massimo che posso fare per fare conoscere il test e quindi farvi lavorare il più possibile. Voi dovrete metterci del vostro perché insomma non posso certo lavorare per voi, però voglio darvi più che posso il supporto fare anche l'impossibile perché questo test merita veramente di essere collocato a un livello altissimo. sto facendo pubblicità sui giornali, ho preso alcune pagine sulla verità, abbiamo preso delle pagine su Star Bene, abbiamo preso pagine sull'altra medicina, stiamo facendo una comunicazione sui social mirata. Insomma, poi ecco, il sito è una presenza importante perché la prima cosa che fanno oggi vanno a vedere se avete un sito, se abbiamo un sito, se c'è un sito istituzionale, se c'è una pagina. Ormai viaggia tutto lì. Facebook, ci sono 50 milioni di persone su Facebook. Chi dice ah Facebook, no, Facebook è un mondo incredibile perché magari voi pensate solo di prendere il 10%, il 5%, l'1% di quei 50 milioni che sono su Facebook. Capite che è un mercato straordinario, come lo è avere una pagina su LinkedIn, avere una pagina su Instagram, cioè bisogna essere, avere una visione a 360 gradi. Se avete bisogno di supporto, noi siamo a vostra disposizione. Chiamate i nostri tecnici, vi possono consigliare, vi possono guidare, vi possono dare dei consigli, insomma, avete il nostro aiuto, 24 ore su 24 lo sapete, a parte la notte se dormo, ma ci sono sempre. Cosa ne dite? C'è qualcuno che vuole farmi qualche domanda, vuole alcuni chiarimenti di come si fanno aggiornamenti. Margherita. Ascolta, io ho fatto l'iscrizione al sito. Meraviglioso. Ok, mi dici come andare, perché l'ho fatto da poco. Allora, voi andate, ecco qua, andate su questa pagina, questa pagina nella sdriveitalia.it Katia, andate su sdriveitalia.it Ci siete tutti su sdriveitalia.it La vedete la mia pagina? La vedi? Sì. Allora, la vedi? Sì. Allora, vai su centri sdrive. Sì. Mappa centri sdrive. Sì. Qui sotto vedete che c'è tutta l'Italia piena di bandierine. nel search map, search map, puoi mettere Milano, se tu hai dato Milano. Search map dov'è? Proprio qui all'inizio della, dove c'è la mappa, in alto a sinistra della mappa c'è il search. Sì? Ok. Metti lì Milano. Sì, Milano. Ok. E qui c'hai centro specializzato sdrive, dottoressa Margherita Pettio. Lo vedi? Se vai nel, clicca sul verde. Quale? Su quello sotto c'è scritto, c'è il verde. Tu quanti centri hai dato? Uno o due? Uno. Uno. Eh, allora, vai su, vai sul vai su centri sdrai, mappa sdrai. Ok. Scrivi Milano. Ho scritto. Clicca su Milano. Sì. Oh. Vedi che si aprono quei due verdi, ci sono quelli due verdi, sotto sono tutti rossi e poi c'è quelli verdi. Ok. E sono su quella pagina, dici, richiedi informazione adesso? No. Non sei su richiedi informazioni. non c'entra niente. Ok, sono su quello. Ok. C'è sul, c'è la, c'è, c'è centri sdrai. Ok. Mappa centri sdrai. Ok. Sotto, c'è i centri sdrai specializzati. c'è la mappa con tutti la Francia? Sì, sì, sì. Allora, in alto a sinistra della mappa c'è search mappa? Sì, ho scritto Milano. Milano e fai ok su Milano, vai su Milano. hai cliccato sul nome Milano? Sì, sì, ho cliccato. Ok, adesso nella mappa ti fa vedere Milano con due banderine verdi. Le vedi? Sì. Ok. Quella, clicca su quella sotto. Centro specializzato. cliccato. Ok. Ti si apre dottoressa Margherita Petio. Dottoressa Margherita Petio, sì. Ok. Visita il nostro sito web. Entra dentro. La vedi? Sì, sta andando, non so perché. Ok. Adesso te la faccio vedere io. eccolo qua. Guarda. Guarda, guarda, lo vedi qua, lo vedi da me. Lo sto guardando, sì, sì. Ah, qui hai, vedi, questi sono i colori che hai scelto tu? Sì. Qui c'è tutto il discorso del rapporto convenzionale, come funziona, qual è il motivo. Qui c'è, qui c'hai chi sono, qui ci sei te, chi sei. lo vedi chi sei? Sì, lo vedi. Te la presento, è una ragazza in gamba. Grazie, ci andrò sicuramente. hai capito? Che spettacolo. Voi pensate quando questi saranno 200, chi è che sta? chi è che sta? Ciao, grazie. Chi è che sta? Voi pensate quando avremo 250 tutti attivati, cosa può diventare in Italia di quanto si parla? Ma io devo fare sempre questo percorso per andare dentro io? No, tu c'hai il tuo sito. No, se tu vai sul link, guarda il link, guarda, adesso ti metto, ti metto il link in chat, così. Ok. È semplice, perché questo qui, questo link qua, tu adesso... Da poter dare, no? Da poter dare agli altri. Eh certo, tu adesso questo lo metti sulla tua pagina. Guarda in chat. Sì, l'ho visto. Adesso, se tu clicchi, chiunque clicca, vede chi sei. Ok, ok, perfetto. Non avevo il link da mandare, ecco perché. Ok. Grazie. Questi, tutti hanno il nome più S-Drive Italia. Margherita Pettio, punto S-Drive Italia. Oppure Giorgio Terziani, punto S-Drive Italia. Grazie. Sono qua per altre domande. C'è qualcosa che non è chiaro? Volete ancora rifarmi domande? Tutto chiaro per gli aggiornamenti? Stasera stiamo parlando di aggiornamenti di... Marta, anche la Marta ci ha raggiunto. Ciao Marta, benvenuta. Ciao Marta. Avete altro da chiedermi? Pronti? Guido, tutto a posto? Vicentin che voleva sapere? Giuseppe, Peppe, tutto a posto? Tutto chiaro, Giorgio, tutto chiaro. Ah, tutto chiaro. Quindi, vi avevo promesso neanche un'oretta di stare assieme, insomma, poi faremo anche i corsi. Marta. Ciao. Ciao, ci sei. È arrivata proprio all'ultimo. Tu hai, l'aggiornamento è tutto chiaro? Hai aggiornato il tuo S-Drive? Sì? Sì, sì, sì. Ah, quindi te non hai problemi. Perché abbiamo fatto vedere il sito, abbiamo fatto vedere i siti come personalizzati, abbiamo fatto vedere come si scaricano gli aggiornamenti, abbiamo fatto vedere anche i manuali, abbiamo fatto vedere come modificare eventualmente la scritta sul report. Sì, come funziona la manutenzione. Ah, potrei farvi vedere come si fa una, se volete cambiare computer, se qualcuno vuole sapere che vuole cambiare computer, vi faccio vedere come fa a installare S-Drive su un altro computer, ma è veramente semplice. Ricordatevi, si fa una cosa che dovete fare è semplice, poi viene tutto in automatico. Voi dovete andare su questo sito che è il sito di S-Drive, quello dove andate a comprare. Di qua, dal dashboard, qui, avete la possibilità di comprare, beh, il test che volete, ma su help e supporto, aiuto e supporto, qui potete fare quello che volete, nuova installazione e quindi poi seguite qui gli step fino agli step uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Quando siete arrivati al sei, una volta che avete risposto correttamente, una volta che siete arrivati al sei, vi faccio vedere, non andate avanti, basta fare non ho il cd, non next, mai next e sulla linea download cliccate, lui scarica il programma, una volta che l'avete scaricato è un eseguibile e si clicca due volte e installate l'S-Drive sul vostro software, sul vostro computer. Quindi è molto semplice questa parte qua, però io sono sempre a vostra disposizione. Mi chiamate, vi guido, un po' di velocità sul computer. Giulia, ci sei? C'è la Giulia? Sì, ci sono, tutto bene. Com'è andata? Sei riuscita? Bene, bene, tutto bene, grazie. Grazie sempre per la tua disponibilità e la tua infinita pazienza. Giulia, ci sei riuscita? Sì, tutto bene. Ah, meno male, guarda, ho preoccupato, ho detto adesso vado a Napoli. Grazie. Bene, bene. Ragazzi, vi voglio proprio bene. come state vivendo questo momento? Alcuni so che sono molto preoccupati, altri un po' in crisi, altri stressati. non è un momento facile. Marta, ti vedo in crisi. Un po', sì. Verrò fuori. verrò fuori. Mannaggia la miseria. Non si deve mollare, ragazzi. Mi raccomando, se avete bisogno, insomma, per qualsiasi cosa, chiamatemi, telefonate, sono a vostra disposizione. Veramente. Io voglio ringraziarvi per tutta la fiducia che mi state dando, per il lavoro che state facendo, nonostante il periodo. Speriamo che cambi il vento per tutte le cose che noi sappiamo. Perché al di là del pass, no pass, green pass è, non si può vivere così. Io ve lo racconto sempre. Adesso devo andare tre giorni a Torino. Non è possibile che da guarito non mi possa andare in un hotel. è assurdo. Non voglio entrare in medito di commenti, però capite che è assurdo. Non posso entrare in un hotel. Ragazzi, siamo veramente al colmo. Chi è che... cercasi casa disperatamente. Giorgio, non hai ricevuto il green pass da immunizzato? No? No, perché dopo i sei mesi scade. Ah, ok. E dai, speriamo dopo il 31 di gennaio che possa succedere qualcosa. Guarda, incrociamo le dita perché io ho fatto 900 chilometri, ieri ho fatto 800 chilometri, l'altro giorno ne ho fatti 9,80 andata e ritorno. E come fai? Devi farlo così. D'altronde, con 2.000 di anticorpi e appena guarite, cioè praticamente, come faccio? non è che posso andare